L'ennesima tragedia è successa questa mattina, venerdì 11 ottobre 2024, all'istituto scolastico Borsellino a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, dove un bimbo di 10 anni è morto durante la ricreazione. Sembra che il piccolo si sia accasciato al suolo improvvisamente perdendo conoscenza. A nulla è servito il pronto intervento del personale del 118, che ha tentato in vano la rianimazione, proseguita per circa 45 minuti. Sono state avviate tempestivamente anche le indagini dei carabinieri della tenenza di Quarto, mentre sul posto è giunto immediatamente il PM di turno della Procura di Napoli, che ha disposto il sequestro della Salma per sottoporla all'autopsia. Il medico legale, subito anche egli intervenuto, ha per il momento escluso la causa di morte per asfissia. L'esame autoptico farà chiarezza sull'accaduto. Gabriele Abruzzese, questo è il nome del bimbo, avrebbe fatto merenda assieme ai suoi compagni, ma subito dopo ha iniziato a perdere sangue dalla bocca ed è svenuto. I genitori, allertati dalla scuola, sono giunti immediatamente e hanno assistito alla scena straziante della rianimazione. I compagni e il personale scolastico sono sotto shock. Ancora una tragedia, ancora un malore improvviso, per un bambino. Ma quando mai è successo con questa frequenza? Quando mai? Vogliamo andare in fondo alla questione, vogliamo indagare, aspettiamo l'esito dell'autopsia. Sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia da parte del salotto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale.